Tutela e sviluppo di ambiente e territorio, questi alcuni dei punti del programma della lista Olivo 2.0 a sostegno del candidato presidente Carlo Veneziale. Conferenza stampa questa mattina a Campobasso, vediamo. Carlo Veneziale, la perimetrazione dei parchi del Molise e del territorio, dei territori del Molise sono, lei ha detto, occasioni di crescita del territorio e punto molto importante condivisa con i cittadini. Non c'è dubbio. La condivisione con i cittadini e con le popolazioni interessate da un provvedimento è elemento fondamentale. Nel caso specifico, cioè quello dell'ambiente, che è un tema trasversale e dell'individuazione delle aree di un parco, è indispensabile che i cittadini colgano quanto la ricaduta sul proprio territorio di un parco importante come per il parco del Matese debba essere vissuta come occasione di crescita e non come elemento di freno o di vincolo per la propria quotidianità. Attraverso questo percorso tutti, tutti, istituzioni e cittadini saranno in grado di cogliere le occasioni che l'istituzione di un parco offre per la nostra regione. L'impegno dunque continua a 360 gradi, soprattutto con il confronto con la gente, giusto? Abbiamo detto e lo stiamo facendo quotidianamente in mezzo alla gente, in questa campagna elettorale e confronto con i cittadini anche durante la futura azione amministrativa. Al fianco dei cittadini, individuando insieme a loro le decisioni da prendere migliori per la qualità della vita di ciascuno di noi, naturalmente con l'assunzione di responsabilità propria di chi è stato chiamato a rappresentare il popolo nelle istituzioni.